Buongiorno, Piero Pio, Maria Adrioli, figlio spirituale di Padre Pio. Oggi è martedì 17 ottobre 2023. Visto quello che stiamo vedendo, ora voglio rileggervi delle profezie del dottor Luigi Gaspari, delle confidenze e delle cose che gli ha rivelato Padre Pio, come suo figlio spirituale prediletto, di tutto quello che si sta avverando. Ecco, questo scritto io l'ho riportato a computer su un altro foglio perché l'originale non si leggeva molto bene, quindi ora vi leggerò quello che Luigi Gaspari, 21 giugno del 73, ha scritto. Come sarà il prossimo avvenire? Luigi, l'avvenire non è rosa, non è neppure grigio e nero. Avrete un autunno nero, voi siete fuori di queste cose. Tuttavia non è male perché soltanto nel nero gli uomini pensano di più a me, a noi, all'eternità. Come volete, parlava in napoletano. E qui Padre Pio probabilmente ha apparso a Luigi Gaspari, anche se gliel'aveva già detto prima della morte, tante cose. Ma poi, secondo me, qui Padre Pio ha apparso Luigi Gaspari. Come volete che vi parlo di bianco se vedo nero? Da Roma parte tutto quello che è marcio. Bisognerebbe che ci fossero grandi cascate per lavare tutto il nero di Roma. Nella Chiesa c'è tutto quel nero che io ti dicevo già, che vedevo quando tu venivi là. I demoni e quelli cristiani, quelli no. Cioè i demoni nella Chiesa e quelli cristiani, ci sono i demoni e gli angeli nella Chiesa. Pregherò per Roma, ma tu, ma lo scatascio resta. Vedete, nella Chiesa quello che sta succedendo, c'è lo scatascio anche nella Chiesa. E il Papa si riferisce a Paolo VI, ma non sa dove andare, non tutti i Papi possono fare il Papa. Ma non è lui, non è lui, il marcio è sotto. E come no, io non ti ho mancato il nostro quaderno dell'amore, lo manderò avanti. Pazienza ci vuole, ma il Papa non voleva mancare di parola. Gli hanno tolto la parola, pure a lui. Vedete la lotta che si è fatta già fin dal 68, la lotta nella Chiesa per questo libricino descritto nel decimo capitolo dell'Apocalisse. Chi parla deve tacere se parla nel giusto. Vedete, chi dice la verità viene perseguitato e non può più parlare. Non lo fanno parlare, lo fanno diventare matto. Devono tutti stare agli ordini. Tu va avanti che ci sono io. E i cardinali e i vescovi non possono frenare la parola di Dio. È una domanda che gli fa il Gaspari, probabilmente a Padre Pio. E i cardinali e i vescovi non possono frenare la parola di Dio. E come no, gli risponde Padre Pio. Io vi parlo perché devo tirare le orecchie a quello lì, riferendosi al Gaspari, che ogni tanto pensa che gli ho dato una dura responsabilità. Ma deve andare, deve andare senza paura che nessuno lo fermi. Se no intervengo io. La parola di Dio va sempre avanti, anche se piano poi andrà più in fretta. Cosa si può credere? Voi volete fare tutto di corsa? E gli ostacoli? Vedete tutti gli ostacoli contro questo quaderno. Ci sono e ci saranno, ma ci sarà anche la soddisfazione. La parola di Dio non teme nulla. Luigi, ti ricordi quando ti ho sempre detto quello che dovevi fare? E mo ti ripeto le stesse cose. Ora dovremmo fare... Cosa dovremmo fare? Che dovremmo fare quando avverrà lo scatascio? Andare fuori in campagna? Quelli che non temono non si muovano. Quelli a posto con la coscienza. La paura è per gli altri. Che accadrà dei grandi disordini? Botteghe chiuse. Questo l'abbiamo anche già visto con la pandemia. Conviene fare qualche provvista. Stare a casa. Non gironzolare. Ognuno stia dove stia. E sì, affidi alla provvidenza. Anche nelle altre città sarà nero. Milano? Lì non andateci. Vedete quello che sta succedendo anche con il terrorismo. E tutto quello che sta succedendo è successo. Lì non andateci. Tanto che ci andresti a fare. Ci saranno feriti e morti. In autunno. In settembre e ottobre e dopo anche. Vedete quello che sta succedendo anche gli attentati oltre che la guerra. I morti. Lì in autunno e settembre. Il governo sparirà. Ma non è male che sparisca. Sono gli uomini che vogliono così. Adesso bisogna capire se si riferisce al governo passato o anche a questo qua. Può darsi a tutte e due. Sono gli uomini che vogliono così. E quando saranno arrivati se ne accorgeranno. Voi non vi preoccupate. Intanto tu lo sapevi già. Io non mi sbagliavo. Vedevo tutto. Tutto quello che ti dicevo che sarebbe successo e successo. Vedete? Avrete un autunno nero. Settembre e ottobre dopo anche disordini, feriti, morti. Vedete la guerra. Oltre alla guerra gli attentati e tutto il resto. E questa è oggi Gaspare. Sempre San Valentino 14 febbraio 91. C'è un pericolo di guerra mondiale che si potrà evitare solo se si fa sul serio nel diffondere l'amore di Gesù, quaderno dell'amore. Gesù Cristo è stato tradito da molti. Causa questo improvviso amore di molti cristiani per l'anticristo Maometto. Cristo è l'unico re di pace e di amore. Perciò ogni volta che gli uomini tradiscono Cristo per mezzo di dialoghi che si fanno accettazione dell'odio islamico. Ecco che la pace si allontana. Vedete cosa ha fatto la Chiesa e vedete dove siamo arrivati oggi. Ogni anticristo è portatore di guerra perché l'anticristo è l'odio personificato che vuol combattere l'amore che è Gesù Cristo. Cristo deve regnare e noi cristiani non dobbiamo ritardare l'avvento del regno di amore di Cristo con i nostri dialoghi traditori della verità. L'unica verità è Gesù Cristo, non c'è altra verità. La verità è una e perciò tradimento cercare la verità al di fuori delle parole di Gesù Cristo. Ecco perché Padre Pio nel lontano 1968 mi pregò di diffondere in tutto il mondo cristiano il quaderno dell'amore e perché egli sapeva che la verità è una e l'amore di Cristo sarebbero stati traditi da molti. Il quaderno dell'amore, libricino descritto nel decimo capitolo dell'Apocalisse, dato dall'angelo a Giovanni. Noi cristiani siamo e dovremo essere figli della pace solo perché la pace si regge sulla verità che è Cristo. Tutti i cristiani che non difendono la verità di Cristo allontanano ogni impossibilità di stabile pace sulla terra. E' necessario oggi fare presto, presto a diffondere nel mondo il quaderno dell'amore capace di difendere il primato dell'amore alla verità di Cristo. Gesù, Maria e Padre Pio vi donino l'amore alla verità. Vedete, adesso tanti dicono, beh preghiamo per la pace nel mondo. Sì ma io non voglio una pace finta, io voglio la pace vera che è la pace dell'era dell'amore. Noi dobbiamo pregare perché il Signore venga e ci porti l'era dell'amore. Perché pregare solo per rinviare le cose, magari adesso non scoppia la guerra per dire, no? Però fra due mesi ci siamo dimenticati di Dio e torniamo al punto di prima. E ci tradiamo tra amici, tra parenti, è un continuo tradimento, una continua guerra tra di noi, tra uomini. No, non mi va bene. Io prego per l'avvento della vera pace di nostro Signore Gesù Cristo che è l'era dell'amore. Ecco, su questo posso dire rosario, rosario e rosario. Non prego per una pace momentanea, prego per la pace definitiva. Bene, adesso vi voglio leggere un'altra cosa, un'altra profezia di Luigi Gaspari, sempre data da Padre Pio, che questo dovrebbe riportarsi nel libro Padre Pio mi ha detto di Luigi Gaspari. E allora, mio bambino, stringiti forte al Padre tuo, non dubitare del bene che ti vuole. Ascolta quel che il Padre ti dice per il bene di tutti. Non c'è tempo da perdere. L'ora della resa dei conti è vicina. Andiamo, aiutiamo chi ha buona volontà. Vedete, in Padre Pio mi ha detto, è riportato. Il pericolo è imminente. Che succederà? Lo saprai molto presto. L'Oriente è un tappeto che nasconde tante insidie. Sotto ci sono preparativi terribili da parte dei nemici del Padre tuo. Nessuno se ne accorge, ma è così. Bambino mio, l'amore al Padre tuo sarà salute e salvezza per molti. Sto cercando. Una cosa che mi sfugge è che dice che appunto che il pericolo, oltre che dall'Oriente, arriva dalla Persia, dalle nazioni, dei tappeti. E adesso, comunque qui già vedete, parla dell'Oriente. E adesso non lo trovo. Comunque lo dirò magari. Quindi, con tutto quello che succede, ora forse, forse riusciremo a capire qualcosa. Ora voglio leggervi sempre un piccolo pezzetto del quadrano dell'amore. preso sempre, ecco quello che il Signore ci chiede, che è la chiave di tutto. La chiave, il Signore ci dice, la chiave è il mio cuore, che si fa vostro ogni volta che mi chiedete di aprire la porta chiusa di un cuore. Io entrerò insieme a voi, perché se entrassi io solo non creerei legame tra voi. Ognuno di voi sarebbe legato a me solamente. Invece, io voglio legare tutti fra di voi in me. Attraverso me, questa è la regione per cui ho scelto e scelgo uno di voi, al quale io mi sono donato e mi dono per entrare in tutti. Vedete, il Luigi Gaspari è stato scelto per scrivere questo libricino descritto nel decimo capitolo dell'Apocalisse per la salvezza del mondo. Il Signore, questa scelta l'aveva già fatta sul segno della croce e ha scelto tutti coloro, tutti più idonei, a portare l'amore nel mondo. La scelta fu fatta da me sul legno della croce durante la mia agonia. Fu allora che il Padre mi concesse di scegliere fra tutti voi più idonei ed esprimervi, a portarvi la conoscenza di me, di tutto quanto io ho tenuto dal Padre vostro in vostro favore, di tutto quanto voi potete per mio mezzo. La vostra speranza di un ritorno alla pace, alla convivenza gioiosa e armoniosa tra voi, è fondata su tutte quelle scelte che io fece allora. Quegli uomini che ebbero tanta parte nel salvare il mondo dalla rovina erano nel numero di quelli che scelsi allora. Quei pochi che oggi sono nel mondo e vivono ad adonarsi a tutti portano ancora e sempre più efficacemente la misericordia e il perdono del Padre che io chiesi ed ottenni per voi tutti. All'epoca quando lui è venuto sulla terra sono anche probabilmente gli stessi di quelli che ha scelto anche adesso perché lo spirito di questi uomini è ritornato per poter salvare ancora altri uomini nel mondo in questo periodo dell'Apocalisse. Questa è la comunione dei santi, gli eletti, probabilmente i 144.000 che il Signore ha scelto per portare l'amore nel mondo e la salvezza a tutti gli altri uomini. Vedete, ora in questo momento così terribile tutte le profezie si stanno avverando. Quindi noi dobbiamo pregare non certo per la pace ma per la vera pace, la pace definitiva che ci può portare solo il trionfo del cuore immacolato di Maria. Ora una volta il mio libro, Padre Pio e il terzo segreto di Fatima, con la collaborazione di Daniele Gallo e Luca Serafini. Troverete la biografia di Luigi Gaspari, di tutta la sua vita con Padre Pio, del libro dell'Apocalisse che parla di questo libricino descritto appunto nel decimo capitolo, della storia della mia famiglia, mia, con Padre Pio e Luigi Gaspari. E' di questo libricino che fa parte del terzo segreto di Fatima che purtroppo la Chiesa, molti nella Chiesa hanno nascosto. Bene, questo libricino lo potrete richiedere con un messaggio Whatsapp scritto, solo scritto perché non vi risponde nessuno. Vi sarà spedito a casa con un bollettino postale e voi lo potrete, potrete fare un'offerta libera. Dovete scrivere via Whatsapp al 371 3956034. Il mio libro invece potrete trovarlo in libreria, richiederlo in libreria. Padre Pio e il terzo segreto di Fatima, Piero Drioli. Oppure richiede lo suo mazzo su ebay che ve lo spediscono, credo addirittura nel giorno dopo. A pagina 147 noterete Padre Pio con un libricino in mano di una foto che ha fatto una suora nella cella vuota di Padre Pio perché l'ha fatta nel 1996, 28 anni dopo la morte. E troverete la foto di Padre Pio con un libricino in mano. Non solo, nel mio libro a pagina 147, in questa foto con un libricino in mano, si nota addirittura nel muro a destra la figura di Gesù che sembra ascoltare Padre Pio che legge il quaderno dell'amore. Con questo preghiamo per la pace definitiva che il Signore venga, ci porti l'era dell'amore, il trionfo del cuore immacolato di Maria. E preghiamo per quello, non per una pace momentanea, ma per la pace definitiva. Un abbraccio a tutti, buona giornata, che Dio ci benedica a tutti. Grazie. Grazie. Grazie.